I rappresentanti del sindacato FIALS hanno chiesto un incontro ai vertici dell'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta per discutere della stabilizzazione di alcuni lavoratori precari che svolgono mansioni superiori rispetto ai loro profili professionali. Si tratta di dipendenti dei settori sanitario, amministrativo e tecnico inquadrati con contratti a tempo determinato. Il segretario provinciale FIALS Gioacchino Zuppardo ha sottolineato che tali dipendenti assicurano nonostante tutto un servizio di alta qualità e quindi meritano un giusto riconoscimento giuridico ed economico. Per il sindacato FIALS serve dunque attivare le procedure concorsuali interne in modo da risolvere al più presto la questione.